Ciao, benvenuto o benvenute in questo rilassante video ASMR sul mio canale TSA se non sei ancora iscritto ti invito a farlo, oggi mi prenderò cura del mio viso così come faccio ogni mattina, quando ho tempo e desiderio di prendermi un attimo per coccolare la mia pelle faremo un trattamento completo per risvegliare la pelle per riattivare la microcircolazione e per far si che si distenda la tensione accumulatasi durante la notte e anche per far si che si prevengano e si curino piccole rughe dovute all'attenzione e anche allo stress quindi un massaggio anti stress un massaggio rilassante inizio applicando un siero a base di acido ialuronico che serve per idratare la pelle questo siero questo siero non contiene oli ha solo una parte acquosa non manca della parte grassa metto due gocce di acido ialuronico metto due gocce di acido ialuronico metto due gocce di acido ialuronico un picchietto per far si che venga assorbito meglio Grazie. Questo trattamento può essere fatto benissimo anche la sera, non deve essere seguito necessariamente al mattino, basta seguire i passaggi con più lentezza, così come sto facendo io adesso. Anche se non è sera, però è una mattinata tipicamente autunnale con il cielo coperto, credo proprio che in momenti pioverà. E ho proprio bisogno di rilassarmi, rallentare e stare un po' così dentro me stessa, a seguire. Utilizzo la spazzolina per il viso, per attivare la circolazione. Io ho fatto un tutorial qui sul canale, come utilizzare questa spazzola, vi ho parlato anche delle sue proprietà. Il face brushing è utilissimo per contrastare le discromi della pelle, le occhiaie, far sì che piccole macchie scompaiano. Aiuta la cicatrizzazione, riduce le infiammazioni. Ed è eccezionale per far sì che le piccole rughe scompaiano. Inoltre a me rilassa tantissimo, trovo che sia uno dei metodi più efficaci, sia per rilassarmi, sia per renderla più radiosa, più bella. Non riesco più a rinunciare a questa pratica da quando l'ho scoperta, all'inizio. Grazie. 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 Dopo ogni utilizzo io spruzzo sulle sedole sempre dell'alcol per disinfettare. E ogni tanto la lavo con acqua e sapone di marsiglie, lascio asciugare in un posto lontano dal sole ma all'aria, sotto il sole non è consigliabile metterla. La metto qui sul mio mobile e lascio asciugare. L'alcol evabora molto velocemente, ragion per cui la mia spazzola tra qualche minuto sarà già pronta per poter essere riutilizzata eventualmente. Adesso procedo con l'applicazione di un altro siero. Questo è un siero grasso e a base di pacuchiol. Un derivato naturale che ha effetti molto simili a quelli del retinolo ma non ha gli stessi effetti collaterali diciamo. Non è molto sensibilizzante, non irrita la pelle e può essere utilizzato tutti i giorni, anche mattina e sera. Per prevenire l'invecchiamento della pelle e ispessire il tessuto cutaneo ma è anche un siero antiimperfezioni. Così si dice, rigenerante, è molto simile al collagene, aiuta anche a riparare la pelle. Questo a base di scolano d'oliva. prendo uno, due, tre gocce. Le strofino tra le dita. Le applico su tutto il viso, comprese anche le occhiaie, il mio contorno occhi appunto, il contorno labbra vicino alle orecchie, sul collo. Adesso che ho distribuito bene il siero, mi è sicuro di aver chiuso la bottiglietta. Ecco qua, adesso si. Prendo il mio occhietto qua. Dentro questa scatolina, io tengo le pietre di Giada per il massaggio guascià, insieme al rullo. Oggi utilizzo soltanto la pietra per il viso, dato che sto facendo un trattamento. Bisogna. Sì. 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 Grazie. 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 la mia pelle piace, inoltre è molto leggero, io ho una pelle mista, sono soprattutto molto grassi e pesanti, miscono fuori comedoni e brufoli non riesco a fare questo massaggio senza guardarmi allo specchio, ascoltando semplicemente la mia pelle, ascoltando il movimento delle mie mani all'inizio non riuscivo a fare a meno di guardarmi allo specchio, non riuscivo a coordinarmi e non riuscivo neanche a sentire la mia pelle invece con la pratica sono riuscita soprattutto nella zona vicino agli occhi ad eseguire il massaggio tranquillamente senza vedermi solitamente si dovrebbero contare i passaggi che si fanno così che se da un lato facciamo 5 passaggi e anche dall'altro dovremmo farne altri 5 ma quando mi rilasso perdo completamente il senso dei numeri mi capita di fare più passaggi da un lato anziché dall'altro andiamo vicino agli occhi che è la zona più delicata, faccio meno pressione rispetto che nell'altra zona del viso le pietre naturali sono meravigliose conducono l'energia dalle mie mani direttamente alla pelle del mio viso inoltre hanno in sera chiuso l'energia della terra è straordinaria questa cosa attenzione a non schiappeggiare i pulpi oculari vedi la pelle è molto sottile non va assolutamente sfregata ecco perchè è importante mettere abbastanza prodotto oleoso per far si che la pietra scivoli molto facilmente e che non faccia dritto ecco 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 ho pronto rompo la pancia non ho ancora fatto colazione ho un po' fame comunque è importantissimo anche evitare di fare massaggi a stomaco pieno ecco perchè possibilmente questo massaggio quando vai seguito appena sveglie oppure la sera dopo alcune ore che si è fatta cena non ho ancora qui si è fatta non ho ancora ma non ho ancora Grazie. Grazie. Così come ho fatto con la spazzolina vado a disinfettare la mia pietra con l'alcol e la ripongo all'interno della scatolina dove l'ho presa. Cerco di tenere tutto molto ordinato. Non mi piace lasciare i miei accessori, gli strumenti per il massaggio intorno per casa o così messi all'aria infusa. Solitamente metto tutto all'interno di scatoline oppure di organizer. Trovo che l'ordine sia davvero importante perché consente di avere tutto molto bene inquadrato. Inoltre per me è una forma di rispetto per se stessi e per gli altri. Anche di amore, non solo di rispetto. Lascio asciugare l'alcol. Metto tutto nella mia scatolina. Uno La spazzolina si è asciugata perfettamente. E due Questa la ripongo sopra la scatolina del guesciano così che mi ricordi che prima devo utilizzare la spazzola e dopo la pietra. Mi piacerebbe moltissimo registrare e poter pubblicare per voi un altro video sul guesciano. Asmr, capelli con la pietra di giada a pettine. C'è un tutorial anche su questo sul mio canale youtube. Vi lascio nell'info box questi tutorial qualora vogliate guardarli dove è spiegato passo per passo come si segue il massaggio. Io ho finito adesso ora di andare a fare colazione. Probabilmente voi vi sarete già addormentati. Ci vediamo alla prossima sul mio canale TSA. Buonanotte e sogni d'oro. Buonanotte e sogni.